150. Come possono essere inseriti i maestri immateriali in una logica terrena? Commento. Possono essere inseriti in una logica coscienziale, che non ha niente in comune con la logica terrena. È assolutamente comprensibile che i maestri non siano accettati dalla visione culturale della nostra epoca storica, aliena, per l'inadeguatezza della mente, da qualsiasi disturbo che interrompa la sua forma di vita.